Attivare le procedure per restituire la terza commissione ai lavori pubblici. Si sono lasciati con questo impegno i capigruppo consigliari chiamati a raccolta ieri pomeriggio dal Presidente del Consiglio Comunale Katia Di Marzio sul tema dell'edilizia scolastica dopo la richiesta avanzata dall'assessore comunale Nicola Angelucci. Un argomento che resta sfinoso tanto per gli edifici di proprietà del Comune di Sulmona per i quali è in corso lo stato di avanzamento dei lavori e l'elaborazione del cronoprogramma quanto per quelli di competenza provinciale che hanno spinto il Consigliere Mauro Tirabbassi a chiedere l'attivazione della terza commissione. Un organismo che servirà per monitorare la situazione e seguire più da vicino l'evoluzione delle singole procedure. Fra gli edifici scolastici di proprietà della provincia spicca l'Istituto di Nino Morandi chiuso da più di tre anni con un interburocratico che si sta sbloccando solo in queste settimane dopo l'affidamento dell'incarico al progettista. Per quanto riguarda l'edilizia scolastica comunale recentemente storia giudicato il secondo lotto dell'assilo di via Badia mentre stanno per essere appaltati lavori alla media capocrassi ma bisogna ancora spiegare che cosa succederà a quegli alunni ospitati in Emuspo dell'ex caserma Cesare Battisti dopo che decorreranno i termini per l'utilizzo dei moduli provvisori.